Le tracce di italiano dell'esame di maturità hanno proposto molte tematiche attuali che, nemmeno a farlo apposta, erano state portate sotto i riflettori dall'assessorato alla cultura del comune di Sala Consilina nei mesi scorsi. Ci piace pensare, conferma l'assessore alla cultura Gelsomina Lombardi, che qualcuno dei nostri ragazzi, traendo spunto dalle nostre sollecitazioni, abbia avuto modo di affrontare preventivamente queste tematiche. Il Giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani è stato infatti uno dei libri donati alcune settimane fa dall'amministrazione comunale salese alle biblioteche degli istituti di istruzione superiore di Sala Consilina. Il 21 aprile scorso, poi, il convegno dedicato a De Gasperi, svoltosi presso l'auditorium Cappuccini, è stata l'occasione per discutere di un momento storico nel quale era in dubbio la collocazione internazionale dell'Italia in un mondo diviso nel quale aveva avuto inizio la guerra fredda. di visioni, tornate purtroppo, di attualità in Europa e non solo. Non a caso il tema della cooperazione internazionale è stato protagonista di un'altra delle tracce scelte dal MIUR. Infine, tra i libri inviati in occasione del 25 aprile a tutte le scuole di Sala Consilina, c'era anche la Costituzione nel settantesimo anniversario della sua emanazione. In ogni caso, evidenzia la Lombardi, è doveroso formulare a tutti i ragazzi maturandi i nostri auguri più sentiti per questa loro importante prova che li mette per la prima volta di fronte a una verifica così significativa della loro preparazione. Il nostro augurio è che queste ore impegnative siano una rampa di lancio per il loro brillante domani.